Corso di educazione civica. Finalmente ritorna l'educazione civica come materia obbligatoria nelle scuole. Come confermato dai dati ufficiali, gli aspiranti docenti che frequentano dei corsi di educazione civica hanno maggiori possibilità di ottenere un incarico dal dirigente scolastico. Il presente corso, oltre a rappresentare un'ottima possibilità per gli aspiranti docenti, costituisce uno strumento fondamentale per i docenti già in servizio al fine di arricchire il curriculum personale ed il proprio bagaglio di conoscenze. La Direzione Nazionale del Sindacato Asset Scuola, da anni attiva per assicurare agli aspiranti docenti e ai docenti in servizio gli strumenti migliori per insegnare sull'educazione civica, ha attivato un corso gratuito per i propri associati. Il corso si svolge in modalità e learning, con dispense, esempi di unità di apprendimento, audiolezioni, esercitazioni e test di autovalutazione. Il corso potrà essere seguito dal corsista senza alcun vincolo di orario. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte della Direzione Nazionale con annesso numero di protocollo. Il presente attestato potrà essere utilizzato dal corsista all'interno del modello di messa a disposizione oltre ad essere inserito dagli aspiranti docenti e da quelli già in servizio nel proprio curriculum professionale. Per aderire invia un'email all'indirizzo a setscuolachiocciolalibero.it oppure contattaci ai numeri 800-864-918-3888-611-942-3273-628-549-3894-395-607-351988-4845. I nostri responsabili restano a disposizione per fornire i chiarimenti richiesti. Grazie a tutti. Grazie a tutti